Buongiorno a tutti, lunedì della quattordicesima settimana, la liturgia di oggi ci porta ancora dentro il Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 9, i versetti dal 18 al 26. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà. Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da dodici anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò salvata. Gesù si voltò la vide e disse coraggio figlia la tua fede ti ha salvata e da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione Gesù disse andate via la fanciulla infatti non è morta ma dorme e lo deridevano ma dopo che la folla fu cacciata via egli entrò le prese la mano e la fanciulla si alzò e questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Spesse volte facciamo anche noi esperienza di una folla che ingombra il cuore la stanza dove c'è il morto dove c'è qualcosa di noi che non è nella vita così questa donna che fatica a raggiungere Gesù per toccare il suo mantello deve sfidare questa folla e questo capo deve mandare via la folla che appunto a folla ingombra alla stanza dove c'è sua figlia morta. Ma questo è l'atto di fede è il passaggio in cui rendiamo visibile ciò che il nostro cuore sa davvero che siamo mendicanti che hanno bisogno di salvezza da parte del Signore e allora questo poi si rende visibile nel gesto concreto di questa donna che tocca il mantello di quest'uomo che si prostra ai piedi di Gesù gli chiede salva mia figlia ecco allora che questa condizione permette a Gesù di entrare lì dentro dove c'è l'assenza di vita dentro la nostra esistenza dove abbiamo più necessità dove abbiamo più bisogno il Signore vuole entrare e questa fede è quell'accoglienza della sua azione è quella certezza che lui è il salvatore e quindi lo chiamiamo a entrare in noi dentro la nostra vita dentro alle nostre situazioni di fatica di difficoltà dove la morte prende sopravvento dove la paura ci attanaglia dove le cose della vita sono troppo grandi per essere portate da noi ecco lì dentro vogliamo chiamarlo perché operi e porti salvezza e allora potremmo sentire anche noi questa frase coraggio la tua fede ti ha salvato e riscoprirci così figli amati da quel padre che fa risorgere Gesù dai morti che quindi è più forte di ogni altra cosa che quindi il suo amore vince su ogni nostra morte su ogni nostra impossibilità di vita e allora vogliamo affidarci al Signore facendo spazio dentro il nostro cuore cacciando via la folla di pensieri che ci mettono distanza tra noi e il Signore che mettono dubbio perplessità paura che inquietano che ci condicono continuamente lui non può fare niente per te oppure ci dicono continuamente ormai è troppo tardi tu non sei in grado di avvicinarti invece il Signore vuole raggiungerci può entrare proprio lì dentro dove c'è più bisogno di lui